Un saluto da Clara Vercelli, come sempre ben arrivati all'appuntamento con incontri, il nostro rotocalco di informazione. Mancano pochissime ore alla chiusura della 54esima edizione della Biennale di Venezia Padiglione Italia. Una mostra curata da Vittorio Sgarbi, mostra che ha portato nel capoluogo piemontese oltre mille artisti provenienti da tutta Italia. Artisti che stanno esponendo le loro opere presso la Sala Nervi di Torino Esposizioni. Dicevo mancano poche ore perché potrete visitare questa mostra, ricordo che l'ingresso è libero, fino a domenica prossima. Allora, oltre mille artisti provenienti da tutta Italia, molti di questi artisti sono piemontesi. Ebbene, noi siamo tornati alla Biennale di Venezia, proprio per incontrare alcuni dei tanti artisti piemontesi. Iniziamo da Angela Seppi Novara, che è una pittrice che è nata a Rivoli, in provincia di Torino. Maturità artistica, Accademia di Belle Arti di Torino, la scuola di grafica di Raffaele Pontecorvo. Insomma, all'attivo moltissime mostre. Ebbene, le abbiamo chiesto di presentarsi e di far conoscere al pubblico le opere che sono state scelte per la Biennale. Un acquerello e un manichino vestito di pagine. Angela Seppi Novara. Angela Seppi Novara è un'artista che ha avuto la soddisfazione, dopo tanti anni di lavoro, di essere invitata con una bellissima lettera da professor Vittorio Sgarbi. Ha partecipato alla Biennale di Saluzzo con un'opera dedicata alle donne. E anche in questo caso ripercorro lo stesso filo conduttore. Ho un'altra tematica, sempre rivolta alla donna contemporanea, che è ancora preda di stalking. Allora, rivolta a... entrambe le opere presenti in mostra sono rivolte alle donne? Donne. Ce le illustri? Beh, non entrambe le opere che sono qui. Una è rappresentata a Saluzzo e si intitolava Scioglierò i lacci dalla mia carne in tenere virgulti. È un lavoro che esprime il disagio femminile. In questo caso ho lo stalking che procura alla mente umana delle grandi sofferenze. Quindi ho rappresentato con tante piccole tesserine i pensieri che fanno esplodere la mente. Il titolo? Il titolo di quest'opera è proprio... mi è scoppiata la testa Esiti da Stolking. Mentre invece... è un acquerello. Mentre invece è questo splendido manichino? Questo manichino fa parte di una mostra che è stata curata e promossa dai beni culturali. I beni culturali mi hanno dedicato questa mostra ad ottobre del 2010 e abbiamo appunto pensato insieme di riportare l'attenzione sugli scrittori piemontesi. Cinque scrittori di tutto il Piemonte che hanno portato le loro opere nuovamente alla ribalta. Io ho fatto degli acquerelli per ogni opera che veniva riportata diciamo all'attenzione del pubblico e la mostra è stata accompagnata da un saggio del professor Marco Vallora. Senta, che cosa si aspetta da questa Biennale, da queste esperienze con il curatore Vittorio Sgarbi? Beh, mi aspetto indubbiamente. Non credo a delle cose particolari, nel senso che per me è stato importante essere apprezzata da lui e questo è un biglietto da visita. Ecco, mi aspetto l'attenzione del pubblico proprio per questo riconoscimento che dopo tanti anni è sopraggiunto. Anche perché comunque il pubblico in questi anni è cambiato nei confronti dell'arte. Certo, il pubblico è cambiato, però io non seguo le mode, credo che ogni artista debba maturare, io sono medium di quello che faccio e quindi ritengo che non mi possa adeguare al momento ma sia uno sviluppo di quello che è la mia interiorità e sono felice quando riesco ad esternarla e a creare un filo conduttore con chi mi segue. Parliamo del domani, dopo questa esperienza, cosa c'è in cantiere? C'è un progetto che adesso è dentro ad un bozzolo perché è molto importante, quindi a livello scaramantico preferisco tenerlo ancora stretto, incrocio le dita indubbiamente. E adesso è la volta di un'attivissima designer piemontese, si chiama Lella Matta, anche lei sta inanellando un successo dopo l'altro. È stata effettivamente una bella esperienza perché l'opera l'ho già portata in diverse mostre, ha già viaggiato un po' per l'Italia, però questa è stata un'occasione particolare perché comunque è stato molto bello il fatto di esporre con tanti artisti, e soprattutto con artisti importanti ma anche con artisti sconosciuti, che però secondo me in questa mostra hanno veramente dimostrato a Torino e all'Italia che c'è tanta gente che ha voglia di fare e che fa a prescindere dall'avere poi eventualmente un successo o meno. Per questo dobbiamo ringraziare secondo me il dottor Sgarbi perché comunque è lui che ha voluto proprio questo tipo di, diciamo, ha fatto questo tipo di ragionamento, cioè di dire l'arte è per tutti ed è di tutti. Cioè chi verrà a questa mostra, che tra l'altro è gratuita per cui chiunque può venire, deve veramente avere la possibilità di vedere tutto, cioè quello che è l'arte contemporanea oggi, a prescindere da invece scelte di qualcuno, critici, galleristi eccetera. Esatto, quindi secondo me è bellissima questa cosa. Vogliamo illustrare al pubblico l'opera che ha portato qui? Sì, allora, l'opera si chiama Il cubo erratico. Allora, Il cubo erratico rappresenta, è una mia interpretazione, dei massi erratici, che sono dei massi presenti sul nostro territorio ma anche su molte altre zone d'Italia, quindi non solo in Piemonte, e sono dei massi che si trovano in mezzo a delle pianure, quindi arrivano dal disgregamento della montagna in seguito allo scongelamento dell'era glaciale. Però la cosa bella è che in pratica nel tempo, prima che si arrivasse a questa conclusione definitiva per cui ci fossero questi massi in mezzo ai prati, c'è stato diciamo un velo di magia su questi massi, insomma si credeva che arrivassero da altri pianeti o insomma storie strane, per cui insomma hanno un loro fascino e quindi ho voluto dare una mia interpretazione di questi massi, ovviamente facendo dei cubi perché la forma che prediligo nei miei lavori, nei mobili, eccetera, è la forma cubica, per cui ovviamente non potevo che farli di questa forma. Cosa c'è nel futuro di L'Elamat dopo questa esperienza? Eh ma non lo so, nel senso che io creo, creo sempre, non è che quando faccio... L'Elamat non crea solamente opere come il cuberratico, L'Elamat crea anche abiti, gioielli, borse... Sì, tante cose, infatti come dicevo creo a prescindere nel senso che quando ho un'ispirazione per qualche cosa la voglio subito realizzare e poi lascio che tutto vada come insomma da sé, ecco, senza fare progetti.